Scusa, posso stai mandando il giugno? Ma lascia il giugno di questo, lo stai facendo il giugno! Giulia, Giulia, Giulia! Giulia, Giulia, Giulia! Giulia, Giulia, Giulia! Eh? Qua, Ilaria! Ilaria, vieni qui facciamo la foto, vieni qua, Vale! Aspetta che qua devono buttare due... La prossima volta, andate voi alla volta! Fatta? Mi seguiremo alla volta! Qua non voglio andare con il giugno? Ok, vedi, bella che si sente! Questa è la velocità dal rumore, non mi sembra! Ah, proprio la telecamera? Sì, sì! Facciamaria con l'ordinizzazione! Vedi che cosa vanno a fatto con qui? Ma, prendo tre mila, guarda, mi fanno tutti a tutti, la vedo la tua! E io penso a questo! Mi sembrava una cosa un po'! Ma noi abbiamo anche lui che ci fa le imprese, vedi? Sei online, saluta! Ma siamo online? Eh sì! Siamo su fresco! Eh sì! Ragazzi, saluta! Levatemi! Eccoci! Ragazzi! Come lo faccio io? Come lo faccio io? Andate! 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 Dai, io mi avevo affogato a punto! Spero che se lo va, io vado a dire! Andate! 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 Dov'è Giuliette? Eccoci! Guarda! Guarda! Grazie a tutti